Buonasera ragazzi Buonasera 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 Guarda Quanto è bello Guarda con la luce che si mette sotto E' antipatico Sto vedendo A fare a quattro ruote Praticamente c'è una specie di C'è un'autovettura che è Auto e barca Si chiama la Valtica Comunque E' Carolina Qua sta lei Si stava vedendo un po' Un po' che cosa Un po' su fish Ci stiamo rilassando ragazzi Stiamo rilassando Stiamo mangiando qualche cosina Ma giusto qualche cosina Perché E io già sono ragazzi 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 oggi devi andare alle 2 ragazzi Quindi Fai alle 10 Cioè non lo so ragazzi Stiamo facendo proprio rario Eh ma io spero che Settimana No Prossima non credo Perché mancano già altre persone L'altra ancora Toccherà a noi Sto a casa Ma Vedremo Ragazzi Sì Sono le 7-10 Ed è un po' sfasato tutto Perché Stavamo sul divano E' incredibile quel divano E' proprio incredibile Ti viene una mega papagna Quando Mi si vede Sì Penso di sì Sì Ti viene una mezza papagna Di quelli proprio incredibili Cioè come ti metti Boom Crolli Niente che dire Saverio sta a letto Perché alle 10 Va a lavorare Io sto mangiando un Un tramezzino Che poi vado anche io a letto Che alle 2 Devo montare Quindi Che dire Che sto provando Questo formaggio qua Ve lo ricordate quando L'abbiamo comprato? Mi diceva E' sempre formaggio alle erbe Certo Però E' differente Come marca Da quell'altro No? E ho notato Voglio dire Che E' E' buono come quell'altro Però forse quell'altro E' ancora di più Perché ci sentia Un po' meno E' tipo l'aglio Quella col sapore Ma non è aglio Perché sennò non sarebbe buono Però è buono ragazzi E' buono Ho facendo questo 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 spalmabile All'erbe Con la mortadella Lo sto per mettere Cuccosino Sullo stomaco Perché E' buono Il letto Quindi ragazzi Mi dispiace Lasciarvi così presto Nel senso Per far terminare Il video Così presto Però Lo devo fare Perciò Perciò Faccio la chiusura Qui oggi Di mettere Mi piace E di seguirci E siamo già arrivati Si può dire All'antivigilia Di Capodallo Chissà Qui come sarà Lo vedremo Lo scopriremo insieme Se vorrete Seguendoci Lo scopriremo insieme Ciao a tutti amici Ciao